a me fanno ridere no? questi che vanno a pranzo fuori l'aperitivo in questo periodo di merda capito? piena pandemia che la gente muore a rutta di collo capito? i genitori non gli dicono no vabbè non sono giovani che fanno? non devono andare a fare il pranzetto fuori? ma che fanno? sono giovani ma perché? testacce di cazzo dico a voi genitori voi li manderesti in tempo di guerra a fare l'aperitivo? al ristorante a mangiare soggiorni? che fanno? altrimenti ci mandate lo sai perché? perché c'è pericolo magari può essere anche un'opzione remota ma c'è pericolo che gli arriva una bomba addosso in tempo di guerra e morono capito? però a mani adesso ci mandate calcolate che adesso è un bombardamento invisibile è una guerra invisibile ok? sentite la bomba che casca non scoppia niente capito? però la gente muore uguale eh? che c'è? mo va bene cioè fino a che il problema non è visibile nel senso che il virus non è tipo un pallone che c'hai vicino non te ne accorgi eh? non funziona proprio così non è proprio quello il concetto capito? eh? a me gli idioti danno fastidio purtroppo la stupidità dà molto fastidio molto molto fastidio grazie a tutti grazie a tutti